Ed eccoci qui in un nuovo video ragazzi, nuovo video con i miei consigli per la giornata numero 2 al fantacalcio. Prima di cominciare ti chiedo se ancora tu non l'avessi fatto iscriviti al mio canale che è gratis e se ami il fantacalcio potrebbe esserti molto di aiuto sia a schierare la formazione che in fase d'asta e lascia un bel like, porta fortuna a questo video e alla tua giornata fantacalcistica. Vuoi un ulteriore consiglio per schierare la formazione? Beh, scaricati i fanta titolari, lo trovi linkato qui sotto in descrizione. È un'app tutta gratuita, tutta, tutta gratuita. Ti mette a confronto due giocatori se hai un dubbio tipo schiero costice o schiero soriano. Non so come fai ad avere questo dubbio, comunque. Metti che tu abbia questo dubbio qui, puoi metterli a confronto e l'app ti dice quale le due schierare. In più, ti dà tutti gli indici di schierabilità dei vari giocatori perché mette a confronto tutte le probabili formazioni delle testate più autorevoli. Scarica fanta titolari dal link qui sotto in descrizione. Torno a dire, è gratis, c'è sia su iOS che su Android. Dai, andiamo a vedere chi schierare oggi nella seconda giornata per il fantacalcio. Ragazzi, sono a casa dei miei genitori, non ho il green screen, ma useremo lo stesso le grafiche prese da fantacalcio.it. Analizzeremo partita per partita. Per ogni squadra ti darò i consigliati, le scommesse e chi non schierare. Mi sono dato il limite di dare massimo 5 nomi consigliati per ogni squadra. Poi, è chiaro, ci sono partite dove potresti mettere un'intera rosa. Andiamo col primo match. Torino-Laffio si gioca sabato alle 18.30. In contemporanea con Udinese-Salernitana. Quindi, per queste due partite, se hai un dubbio sui titolari, ricordati che alle 17.30 di sabato escono le formazioni ufficiali. Per cui è un aiutino mica da poco. In Torino-Laffio, ovviamente, vedo favorita la Laffio. Però ci sono diversi giocatori schierabili nel Torino. A cominciare da Radonice. Io credo che questo centrocampista offensivo possa fare veramente molto bene oggi contro la Laffio. Perché comunque sia la Laffio non è che ha questa difesa imperforabile. E magari Radonice potrebbe trovare lo spunto. Magari può portarsi a casa un assist. Altro giocatore che schiererei tranquillamente, nonostante il fatto che la Laffio sia una squadra superiore, metterei Singho. Perché Singho, comunque, da quel lato può far bene. Non è il lato dove si troverebbe ad affrontare Laffari, perché non è il lato sinistro. È il lato destro. Quindi Singho potrebbe affrontare Marosvic. Ed è uno scontro che Singho potrebbe vincere. Come scommesse, ti direi Lukic, che dovrebbe aver ricucito il suo rapporto con Juric, e dovrebbe ripartire titolare. E Vlavic, chi lo sa. Comunque gioca sulle tre quarti e potrebbe fare bene. Anche Sanabria sarebbe schierabile, però non mi sento di consigliarlo troppo oggi. Da non schierare, ragazzi. Milinkovic-Savic oggi non lo metterei assolutamente contro Immobile e Soci. Quindi Milinkovic-Savic no, perché rischia di prendere almeno due gol. E non metterei neanche Buongiorno, perché è a forte, forte rischio giallo. Nella Laffio si potrebbe quasi andare in all-in, però ci sono alcuni dubbi di formazione dati dalle voci di mercato, soprattutto. Quindi Luiz Alberto e Milinkovic-Savic. Se fossero titolari, li metterei dentro tranquillamente. Da mettere ovviamente Ciro Immobile. Metterei Lazzari, che è in ottima forma, e un po' scontatello Zaccagni. Come scommesse? Ti direi Basic? Hai visto mai che possa partire di nuovo titolare al posto magari di Cataldi? E comunque anche da subentrante può far bene. E Pedro, che secondo me anche dovesse partire dalla panca, potrebbe fare molto bene oggi e lo schiererei. Udinese-Salernitana. Nell'Udinese da schierare assolutamente. Udoji. Molti pensano che sarà titolare Masina. Io credo invece fortemente che ritorni titolare Udoji. E fuori ruolo può far veramente bene. Poi ti direi Pereira e anche Deoluffeo. C'è il dubbio su chi sia il rigorista dei due. Io ti dico Deoluffeo. Ad ogni modo si possono mettere entrambi, perché sono tutti e due molto offensivi. Come scommesse ti dico Silvestri, perché potrebbe avere la chance di uscirsene con un clean sheet. Ti dico Beto. Qui tutti consigliano success. Io ti dico Beto. Secondo me potrebbe fare meglio Beto oggi. E poi scommessina e Bosele, ragazzi. E Bosele con l'accessione di Soppi potrebbe diventare titolare su quella fascia. E io oggi proverei a lanciarlo se ce l'avessi. Nella Salernitana. Metterei sicuramente Bonazzoli. Proverei Candreva se ce l'avessi, perché comunque si ha una certezza e va a giocare nel suo ruolo. Metterei anche Fazio, soprattutto se avessi il modificatore di difesa, perché potrebbe uscirse con una buona pagella. E poi tenterei Mazzocchi, che gioca comunque a centrocampo, ma è listato difensore. Come scommesse, Boteim, che secondo me potrebbe fare bene oggi. E anche il nuovo arrivato Vigliena. O Vilegna. Non ho ancora capito come si pronuncia. Credo Vigliena. Sconsigliato nella Salernitana, Bron. Ora, non credo che in tanti voi ce l'abbiano, però penso che oggi sia forte rischio giallo. Inter-Spef. Nell'Inter puoi andare in All-In, quindi fai conto che se io non ti nomino Bastoni puoi schierarlo comunque. Adesso ti dico quelli che secondo me sono più schierabili nell'Inter e che hanno più chance di portarci a casa dei bonus. Lukaku Lautaro, ovviamente. Poi ti dico Cialanorlu. Secondo me oggi almeno un assist lo porta a casa. E anche Barella. Anche lui credo che ci possa portare a casa un assist. Poi ti dico Andanovic. Secondo me può uscirsene con un bel clean sheet. Unica scommessa nell'Inter, io ti dico il buon Dzeko che secondo me oggi potrebbe avere diversi minuti a disposizione e andare anche a bollare. Nello Spef. Ci sono pochi giocatori che schiererei a cuore leggero. Uno su tutti verde. Verde perché comunque sia anche rigorista e potrebbe fare bene oggi. Quindi comunque potrebbe uscirse con una bella pagella. Come scommessa proverai a schierare bastoni perché comunque sia gioca a centrocampo ed è l'istato difensore. È vero che si ritroverà contro Barella però è anche vero che potrebbe portarci a casa magari un assist o comunque una bella valutazione e ad ogni modo gioca a centrocampo e tu ce l'hai l'istato difensore. Non schiererei assolutamente. Dragowski perché secondo me va a pigliare dei gran gol e Caldara. Anche lui ha forte rischio giallo oggi. Sassuolo Lecce. Io qui ti dico. Lì vedi quel raspadori ho dei forti dubbi che giochi perché sembra quasi fatta la successione al Napoli. Vedrai meglio in quella posizione un Alvarez anche se è un po' spostato di lato forse un Torzad avanzato. O volendo c'è sempre quel famoso Seide. Nel Sassuolo schierabilissimi assolutamente Pinamonti e Berardi. Sti due qua vanno messi assolutamente. Pinamonti secondo me oggi farà il suo primo gol in nero verde. Berardi potrebbe anche lui bollare e fare assist. Metterei anche Frattesi perché questa è la classica partita in cui potrebbe avere la chance di portarci un bonus. E metterei anche Erlich. Adesso non è che sia il difensore da bonus fisso però oggi qualcosina potrebbe farlo. Nel Lecce sinceramente io metterei tutto il trefetto avanzato quindi Di Francesco, Strefezza soprattutto questi due e Sisi secondo me tra loro tre un gollettino se lo portano a casa almeno uno. Come scommesso al centrocampo andrei a schierare Bistrovic perché comunque è abbastanza offensivo e magari alla volta buona che ci porta a casa un assist. Da non mettere assolutamente Falcone perché secondo me Falcone prenderà diversi gol oggi e non metterei neanche Gallo perché gioca proprio nella fascia occupata da Berardi quindi si scontrerà con l'uomo più forte del Sassuolo. Tra l'altro fresco di rinnovo eh. Empoli-Fiorentina derby toscano nell'Empoli proverai a schierare destro perché comunque secondo me sarai rigorista e ad ogni modo schiererei anche Bayrami e proverai a schierare anche l'Ammers perché sinceramente credo molto in lui. Ti dico dal centrocampo in su io non avrei paura a schierare nessuno dei giocatori dell'Empoli dalla difesa in giù qualche dubbio ce l'avei. Però come scommessa io schiererei anche Vicario soprattutto se avessi modificatore di difesa perché comunque prende spesso belle pagelle e potrebbe fare bene anche contro la Viola. Altra scommessa Henderson perché lui è un giocampista offensivo l'anno scorso è stato messo abbastanza al buio dagli altri giocatori che aveva l'Empoli quest'anno secondo me ha tante chance da titolare e potrebbe fare molto bene oggi. Nella Fiorentina ragazzi siamo a forte turnover per la Coppa di questa sera. Quindi bisognerà capire un po' chi giocherà in Coppa nei ruoli tipo gli esterni d'attacco o forse proprio anche la punta per vedere che chi giocherà in Coppa probabilmente non giocherà poi in campionato almeno titolare. Lì c'è un po' da capire. Io quelli su cui ho più paura diciamo di turnover sono gli esterni d'attacco poi Bonaventura questi e la punta. Questi sono quelli su cui ho più dubbi di turnover. Infatti non sapendolo io ti direi di schierare González perché penso che alla fine giocherà titolare stavolta e schierare Biraghi su questi sono sicuro. E poi ti direi Amrabat che secondo me oggi sarà titolare e potrebbe fare molto bene. Come scommesse ti dico Saponara perché nei vari turnover potrebbe anche solo subentrare e fare bene e ti dico Cabral io ho il dubbio che Cabral oggi parte a titolare tu guarda la partita di Coppa almeno le formazioni guarda chi parte a titolare in Coppa e secondo me non sarà titolare in campionato quindi se vedi titolare in Coppa Cabral metti Jovic tranquillamente se vedi titolare in Coppa Jovic prova a mettere Cabral da non schierare comunque non metterei Martínez Quarta perché potrebbe sentire molto questa partita e portarsi a casa dei gialli Napoli Monza nel Napoli si può andare praticamente in all-in quindi se non ti dico uno di questi nomi è perché comunque si può schierare ora ti dico i 5 che vedo meglio Ozyman sicuro Velinski perché Velinski secondo me tornerà quello di un tempo quindi ok non sta giocando tanto avanzato ma può portare comunque tanti bonus io proverei a metterlo nonostante c'è chi pensi che con l'arrivo di Dembélé lui giocherà molto meno poi metterei Mario Ruiz secondo me oggi potrebbe portarci a casa quantomeno un assist metterei anche Mereto oggi secondo me ha buone chance di fare un clean sheet o al massimo di prendere un gol e lo so ne ha presi tanti del Verona e poi come non dire Quara Schelia perché diciamo che è l'uomo del momento vediamo che succederà come scommesse io ti direi Politano io ho il dubbio che oggi possa partire titolare o comunque anche da subentrante può fare veramente bene e poi ti dico Elmas non credo che sarà titolare ma può subentrare a Quara Schelia e fare bene anche lui sicuramente ha voglia di farsi vedere nel Monza non schiererei tantissima gente metterei Petagna perché è un ex volendo si potrebbe mettere anche Caprari ma non è tanto la sua partita è più quella di Petagna questa come scommesse ti dico Sensi che oggi potrebbe essere titolare e battere gli angoli quindi magari può portarci a casa un assist dall'angolo e metterei Valotti perché comunque sia potrebbe essere una partita in cui si possono aprire inaspettatamente alcuni spazi e Valotti potrebbe inserirsi però sto parlando di una scommessa è meglio Sensi tra i due da non mettere assolutamente Cragno perché per me può prendere diversi gol Carlos Augusto perché comunque sia da quel lato il Napoli spinge molto vuoi con Lozano o con Politano Carlos Augusto secondo me rischia di portarsi a casa un giallo poi chiaro nomino di più Carlos Augusto che Marlon perché comunque sia in molti hanno di più Carlos Augusto io non metterei nessuno in sta difesa oggi Atalanta-Milan big match di giornata nella Dea ci sono diversi giocatori che si possono mettere nonostante questo scontro metterei tutto il terfetto offensivo quindi Zapata Murel e Pasalic soprattutto Murel oggi potrebbe portarci a casa assist e forse anche un golettino Zapata può bollare e anche Pasalic può fare veramente molto bene tra i tre però preferisco Murel oggi e poi schiererei anche il buon Kupmeiners secondo me farà bene anche lui a centrocampo come scommessa ti dico Atebor perché ok è dal lato di Teo Hernandez però magari può far bene diciamo che preferisco comunque lui rispetto a Maele come difensori fuori ruolo a centrocampo e poi ti dico Malinowski fa strano chiamarlo scommessa però in teoria ha le valigie in mano non c'è niente di sicuro nonostante tutto quello che si legge e magari potrebbe subentrare o addirittura partire dal primo minuto e fare bene poi chiaro registro il video giovedì magari domani è a Tottenham a fermare lì nella loro sede da non mettere Derun Derun è rischio giallo nel Milan mi sento di consigliati diversi giocatori però oggi come punta vedo meglio Giroud quindi io ti direi di mettere Giroud poi chiaro se hai Rebic non è che per forza non lo puoi mettere però metterei di più Giroud le hao da mettere e poi io qui ho il dubbio tra Diaz Messias chi giocherà in quel ruolo io ho dei dubbi tra questi due giocatori cioè il ruolo di Diaz e Messias può essere occupato da qualcun altro soprattutto Diaz è in forza io Messias lo schiererei Diaz un po' meno poi metterei gli esterni di difesa del Milan quindi Thernand e Fecalabria tutti e due si possono mettere è uno scontro dove diciamo vedo quasi meglio Calabria oggi perché comunque è nella fascia di Maele non in quella di Atebor però possono far bene entrambi ovviamente poi senza giro in campo Teo è rigorista va messo come scommessa De Ketelar De Ketelar potrebbe avere la sua prima da titolare oggi io proverei a schierarlo da non mettere oggi Tonali io non lo metterei oggi perché secondo me è un giallo Tonali se lo piglia Bologna Verona nel Bologna metterei Arnautovic metterei Orsolini vedrai che oggi sarà titolare al posto di Sansone sembra che si siano chiariti con Mijailovic c'era stato uno screzzo perché Orsolini era arrivato in ritardo alla preparazione tecnica prepartita prima di entrare in campo diciamo metterei Cambiaso perché secondo me ha buone chance di fare bene oggi e poi comunque è fuori ruolo e metterei Skouten perché Skouten comunque ha fatto una gran partita contro la Lazio secondo me minimo se ne esce con una buona pagella ma potrebbe essere anche la volta buona che faccia un assist come scommessa De Silvestre autore dell'autogol incolpevole contro la Lazio secondo me oggi cercherà di riscattarsi e potrebbe fare veramente veramente molto bene vedo quasi meglio lui che Cambiaso però sono entrambi da schierare e altra scommessa Barrow che potrebbe subentrare e fare bene oggi nell'Ellas Verona metterei Tamev secondo me Tamev oggi può far bene portarci del bonus si aprono spesso spazi davanti alla difesa rosso-blu e lui potrebbe inserirsi metterei Henry che oggi secondo me è l'iniziato numero uno dell'Ellas di bollare metterei i due esterni Laziovic e Faraoni le metterei entrambi soprattutto Faraoni perché è fuori ruolo però anche Laziovic può fare veramente veramente bene oggi come scommessa fa strano nominarlo è un po' come con Malinoski Barak Barak sembra che anche lui sia quasi sicuro di partire è in forse dal primo minuto io te lo metto come scommessa io se ce l'avessi proverei a schierarlo comunque e altra scommessa Gunter Gunter secondo me oggi potrebbe uscirsene fuori con un buon voto soprattutto se è il modificatore proverei a schierarlo lo stesso Gunter oggi Roma Cremonese nella Roma si va in all-in ragazzi ma su tutti metterei Rui Patricio a rischio di uscirsene con il clean sheet oggi metterei Ebram Di Bala più Di Bala che Ebram se devo essere sincero oggi metterei Zaniolo quindi tutto il terzetto offensivo e metterei Spinazzola perché comunque gioca fuori ruolo chiaro che Pellegrini arretrato fa un po' meno voglia rispetto a quando stava sulla tre quarti come scommesse io ti dico El Sharawi da subentrante può fare molto bene giocherà una ventina di minuti vedrai Idem Zalewski e se voglio darti anche una scommessina tra i titolari ti dico Mancini che non è proprio una scommessa per oggi potrebbe essere la giornata in cui ti va a fare quel gollettino provare a schierarlo e comunque non dovrebbe prendere il giallo oggi nella Cremonese c'è veramente poco da mettere in campo metterei Okereke perché è quello che maggiormente mi dà idea di poter segnare come scommessa potremmo mettere Dessers visto che comunque alla Roma ha già segnato e magari Ghiglione perché comunque un fuori ruolo gioca a centro campo chiaro che è dal lato di Spinazzola però dietro sembra abbastanza coperto quindi potrebbe avere più propensione offensiva ed è anche dal lato di Okereke quindi potrebbe portarci a caso un assist qualora Okereke segnasse da non mettere ragazzi Radu Radu è a rischio gol oggi ne può prendere diverse almeno due e non metterei neanche Vasquez che secondo me è a forte rischio cartellino perché si scontrerà dal lato di Dybala Sampdoria Sampdoria Juventus partita di lunedì sera e chiuderà il turno nella Samp schiererei veramente poco ragazzi metterei giusto Caputo a cuore leggero perché comunque è un bomber che deve arrivare a fare almeno quei dieci gol saggionali magari te ne fa uno oggi come scommessa Sabiri se vogliamo metterlo perché comunque sia è in forma si potrebbe rischiare anche contro le Juve e magari Villar Villar potrebbe essere quella variabile impazzita di questa partita da non mettere assolutamente secondo me Audero per la quantità di gol che può prendere Rincon perché è a rischio giallo e poi e poi non metterei neanche Djuricic perché comunque sia è dal lato di Quadrado Danilo Zaccaria cioè quando passa Djuricic qua in Mev io non lo metterei proprio Djuricic oggi nonostante sia un giocatore offensivo nella Juve per me si può andare praticamente in all-in chi metterei soprattutto Quadrado fuori ruolo in attacco da mettere Vlaovic metterei Bonucci che potrebbe essere la volta che fa uno dei suoi tre gol sagionali metterei Locatelli e ti direi Kostic perché Kostic potrebbe portarsi a casa un bonus oggi come scommesse ti dico Ken perché credo proprio che subentrerai potrebbe anche portarsi a casa un gollettino e ti dico Gatti perché secondo me può subentrare e poter essere a casa una bella pagellina questi erano i miei consigli di giornata ti invito a lasciarmi un commento qui sotto per dirmi che ne pensi vieni in live domani alle 5 del pomeriggio e avrai i miei consigli in live ovviamente gli abbonati passano avanti quindi pensaci all'abbonamento se ti va cercami anche su Instagram TikTok fantagol trattino basso fantacalcio o iscriviti a sto canale ragazzi qui si parla di fantacalcio tutti i giorni tutti i giorni ciao e buon fanta a tutti e buon fantacalcio Grazie a tutti